Nella fabbrica di Bitume Ancione a Ragusa sono tornati rumori del lavoro, anche se l'ultimo operaio è entrato qui dentro quasi dieci anni fa. Ora la animano gli artisti invitati per Bitume, una costola del Festival, l'evento ragusano di arte pubblica arrivato alla quinta edizione. Bitume è la possibilità di ripensare uno spazio che è stato lavorativo per 150 anni, abbandonato e rivisitato da una serie di artisti che rileggono questo spazio in una nuova chiave, non più produttiva ma artistica. Per molti è solo del ferrovecchio arrugginito, ma per me è un posto magico dove c'è storia, cuore e famiglia. Il sacrificio di tante persone, ma soprattutto il sacrificio di mio nonno che si è nel 1946 lanciato in un'attività così grande. L'arte per rileggere la storia di un luogo, la fabbrica, di una materia, la pietra pece, estratta e trasformata qui nel Bitume che ha poi ricoperto le strade di mezza Europa. Questa è una mattonella fra le più diffuse e la produceva solo l'Antoni Nancione. La vediamo ossidata adesso ma se noi proviamo a... vedete? Qui c'è il Bitume. Il prodotto del lavoro di centinaia di piciaruoli, minatori della pece e di tanti operai come Carmelo Bentivoglio, detto meno leffa, il falegname storico dell'azienda. Ora il volto dell'opera di Guido Van Elten, uno dei 17 artisti al lavoro. È stato in azienda 37 anni e quindi sono tanti. È una figura che forse due o tre generazioni di dipendenti l'hanno conosciuto tutti. Una istituzione. Un luogo che non è nato per l'arte ma che ora ne è elemento fondamentale. Ha bisogno della stanza in cui si trova infatti anche l'opera di Case McLean, uno dei più noti street artist al mondo e che non sarà accessibile al pubblico. Magari qualcuno ci finirà per caso esplorando quest'area ma è pensata per entrare in connessione con i luoghi. È più come una traccia nascosta degli album degli anni 90, un po' giocare con quella sensazione di sorpresa. Tutte le altre opere saranno invece visibili durante le escursioni con guide aperte su prenotazione dal 16 ottobre. L'intento è quello di ridare alla comunità una memoria degli spazi che sono stati fondamentali per la comunità. Questa è anche sì una forma di esempio di come poter intervenire in un'area industriale. Un metodo per poter rivivere questi che sono secondo me delle cattedrali del nostro stare al mondo. E quindi sarebbe importante che si trovassero degli strumenti per poter riviverli in chiave anche innovativa. Il bione è quello più... Il bione è quello più... Grazie.